Allora ragazzi, prima della visione di questo video ci tenevo a dirvi una cosa, una cosa in particolare ovvero vi chiedo un attimino di fare le persone mature ma semplicemente le persone intelligenti ieri è uscita la prima parte dell'episodio, e comunque l'episodio numero 56 che a molti, diciamo, ha fatto un po' discutere e a molti non è piaciuto, per carità ci sta, vi do ragione perché purtroppo essendo oggi 2 agosto dovete sapere che è un po' complicato mantenere gli stessi ritmi che porto avanti da ottobre e ascoltate bene, da ottobre non è una carriera che abbiamo iniziato ieri non è una carriera fatta tanto per fare è una carriera seria, realistica, che mi è stata riconosciuta da voi tale per un sacco di mesi perché è appunto da ottobre che questa carriera va avanti quindi è normale che dopo mesi, essendo in estate, volendo continuare questa carriera e non volendo portarla tanto per portarla in un episodio può capitare che io non riesca a passare una notte intera a montare il video di conseguenza può uscire solo una partita adesso però, io ovviamente non avevo neanche intenzione la minima intenzione di fare quest'intro particolare perché ok, ci sta, non è la prima volta che vi porto una partita sola è la seconda volta, tra l'altro e mi aspettavo comunque una reazione del genere una reazione che però va un po' oltre quello che mi aspettavo io allora, intanto ci terrei un attimo a far presente ad alcuni di voi che la coerenza non si compra al supermercato un ragazzo che non andrò a nominare per motivi insomma di privacy mi scrive dai fede sono una partita, proprio quella contro la squadra è inutile per la prima volta in un episodio di carriera mi hai deruso al che io vado a rispondere in modo ironico come faccio di solito nei commenti insomma un po' così e scrivo come vedi neanche io sono perfetto questo l'ho scritto perché proprio da voi sono stato loddato per tutto l'anno come se questa fosse la carriera migliore degli anni in memory quando in realtà a ottobre prossimo nessuno si ricorderà di questa carriera ma questo non fa niente perché è così che funziona no? e quindi ho risposto in questo modo ironico la sua risposta giusto per dimostrarmi buttiamo proprio la merda sulla merda che poi che cosa vuol dire mi scrive quando porterai il prossimo episodio? bene quindi tu geniaccio del male critichi un video che neanche hai visto perché alla fine del video c'è scritto chiaramente che oggi 3 agosto alle ore 14 sarebbe uscito questo episodio ma non è il commento che mi ha fatto più discutere il commento peggiore che mi ha confermato insomma l'idea di fare questo intro un po' particolare è quello di un ragazzo che mi scrive esattamente 6 minuti una presa per culo allora carissimo e parlo a tutti quelli che la pensano come te presa per il culo mi pare che tu stia sbagliando tutto perché bastava che tu mi dicessi che il video non ti piaceva perché era corto ma che tu vieni a dire a me che sto di fatto prendendo per il culo i miei i ragazzi che mi seguono e questo non lo posso accettare questo non lo posso accettare perché poi vedo i miei coetane gente anche più piccola di me non ho mai buttato merda su nessuno sicuramente non lo farò neanche in quest'intro di video ma di fatto c'è gente che veramente prende per il culo i suoi iscritti apro e chiudo parentesi quindi le parole pesano io adesso non voglio fare l'offeso non voglio fare la vittima figuriamoci non l'ho mai fatto ma le parole pesano quindi stiamo attenti perché spesso le usiamo con persone sbagliate se proprio le dobbiamo usare usiamole con le persone giuste detto questo oggi non vi preoccupate perché nella seconda parte di episodio ci saranno ben due partite poi con la carriera ci rivedremo la settimana prossima ve lo dico qui anche se poi sono sicuro che nei commenti ci sarà gente che mi vedrà quando uscirà il prossimo episodio e perché non ve lo porto tra 5 minuti vabbè dai vi lascio al video buona giornata inizia novembre e torna la Champions in uno stadio che non ha bisogno di presentazioni il vero drum di Marsiglia dove l'Olympique affronta la Roma è il giro di Boa e buonasera a tutti Ordici in kudu che va a destra in aria di rigore Florenzi colpisce e poi Depay che vuole allontanare dalle parti di Ronaldo non riesce a metterla giù la mette giù una ingolanna che vuole portarla la perdere sulla pressione di Lassana Diarrano e quindi Marsiglia che resta in avanti con Orejana ecco il traversione secondo palo colpo di testa Marsiglia in vantaggio Baschouay al nono porta avanti i suoi Baschouay che ironia della sorte era stato cercato in estate della Roma e ci punisce così davanti al suo pubblico fa 1-0 Roma che ha sbagliato questo pallone in uscita con la Nainggolan e poi il cross dalla destra il colpo di testa di Baschouay su Florenzi che sicuramente insomma la sua data migliore non è quella del colpo di testa ed è 1-0 a favore del Marsiglia c'è De Rossini vicino anche Lorenzi a destra che in poca il pallone lo riceve Lorenzi in zona cross ecco il traversione verso Ronaldo sul fondo quanto è importante questo giocatore perché in area sicuramente le prende tutte lui però non trova la porta sale Rejana sulla destra occhio a Manolas che va a stringere Rejana pronto a traversione vuole saltare Manolas è passato? no perché poi lo chiude bene il greco ma sbaglia tutto Baschouay in porta Dragoschi in calcio d'angolo un brivido col Marsiglia che attacca e che è molto pericoloso una piccola parentesi poi ne parliamo bene a fine partita è impressionante la differenza di difficoltà tra campionato e Champions League ma è una cosa di cui parleremo dopo perché dobbiamo mantenere altissima la concentrazione pronto Brook manda la bandierina il cross che arriva Dragoschi con i pugni servito a destra Florenzi la portale che qui converge molto bene il campo occhio a Florenzi che fa tutto bene calcia in porta manda andà si distende la palla verso Ronaldo manda andà e poi traversa e calcio d'angolo palla col clamorosa per la Roma alla mezz'ora Merson Roma che sta crescendo con il passare dei minuti va alla limite per dei paesi se la porta in zona dico calcia in porta manda andà un voline di Memphis e calcio d'angolo Di Germano su di lui ora GR7 esaltato questa volta il servizio è per Diarrà che passa molto bene Florenzi scimolato Diarrà allarga occhio Dragoschi l'ha presa su Bashiwai no neanche non l'ha presa secondo me perché ho visto il guardarine che era rimessa dal fondo se l'è divonato Bashiwai è rimessa dal fondo per la Roma non ci credo un errore clamoroso a porta praticamente vuota per l'attaccante del Marsiglia che aveva segnato nel primo tempo ma qui ci ha graziato allora Roma che vuole approfittarne con Aubameyang che converge vuole andare al tiro ribattuto ancora De Pai però dentro da Salah colpare che filtra Salah manda andà la Roma è viva e dentro per Nainggolan che arriva riesce a servire De Pai Roma che è uscita comunque molto bene quindi il pallone per Aubameyang cerca di tenerla si defila ancora Aubameyang vuole passare a fine subisce pallo ma c'è il vantaggio Aubameyang è nel rigore fino in fondo Aubameyang dietro il pallone Nainggolan finta il tiro lo prova di azione calcio d'angolo per la Roma solo calcio d'angolo quindi Kanté abbiamo sciupato secondo me una buona occasione per andare qui Salah con Nainggolan che va a ricevere questo pallone ancora Salah sta partendo Florenzi bella palla per Aubameyang con Florenzi che dovrebbe convergere ci mette un po' troppo quindi ritiene ancora l'Africano dentro da Salah grande idea Salah fino in fondo dentro Florenzi manda andà non ci credo poi ancora pallone lì manda andà non è possibile unesimo che dovrebbe riuscire a partire in contropiede perché altrimenti è finita Mendy per i kick più dentiti poi Valavalla resta lì ancora Kanté forse l'ultima possibilità di partita per la Roma con Kanté che corre Manolas chiama il pallone va a riceverlo c'è Ronaldo lì vicino sbaglia Manolas che per carità con i piedi sicuramente non è un gran che poi Ronaldo la recupera attenzione alla Roma con Salah praticamente l'ultima azione di partita Mohamed c'è fuori la ingolanta che fa ricevere può concludere col destro una ingolanta fermo calcia ma andrà ancora poi gli allontanano la rifiuta c'è De Rossi che finisce giù calcio di punizione ultima chance al 95esimo praticamente una partita infinita arriva il cartellino giallo la Roma ci prova con il cuore fino alla fine fino al fischio finale in tutti i modi adesso ovviamente tutti hanno qualcosa da dire c'è Ronaldo per il guizzo del campione Ronaldo barriera calcio d'angolo per la Roma questa è veramente l'ultima possibilità è salito anche Dragoschi batte Nainggolan verso un Titi la palla verso poi Kanté dentro resta lì Salah Dragoschi fa lui un attacco e vabbè allora è finita veramente arriva anche il giallo per chi? per Dragoschi è stato munito il nostro portiere benissimo è finita qui mi sa altro rinvio corto pre-kick potete guardare l'arbitro ovviamente il tempo è praticamente esaurito è finita col Marsiglia che batte la Roma per 1-0 basta e avanza il gol di Baschouai il girone a questo punto si complica perché la Roma resta qua da 6 punti perdiamo contro la squadra che avevamo battuto all'andata per 3-2 rimontando questa volta evidentemente hanno difeso meglio applausi per loro ma standing ovation per la Roma perché perde a testa altissima sciupando troppe occasioni e stiamo d'accordo ma non mollando per niente Ronaldo infuriato perché lui non ama perdere viene da un club in cui vincere è molto più facile che vincere qui nella capitale però noi quest'anno vogliamo vincere e ci rifaremo si comincia dal Ferraris di Genova per Sampdoria Roma undicesima giornata di campionato con i giallorossi che in campionato stanno dominando assolutamente lungo e largo in classifica e soprattutto dal punto di vista del gioco soprattutto da sottolineare il fatto che siamo ancora imbattuti mentre nella giornata di Champions in 4 partite ne abbiamo perse 2 e vinte altrettante si però ovviamente la situazione è più complessa di uomini poi allarga dalle parti di Florenzi va ancora dentro bacca ad attaccare poi dei rossi dentro a cercare Odegaard non lo trova per la chiusura di Correa ma ancora Roma eccolo Odegaard poi bacca c'è ancora Odegaard lì sinistro sul fondo nello stretto grande azione Nengolan Florenzi dalla parte opposta mette giù prova Florenzi sul fondo chiude Ronaldo per il contropiato dell'aroma valla dentro per bacca intelligentissima da parte di CR7 poi si muove Aubameyang che si libera Aubameyang col pallonetto traversa e poi la palla verso Ronaldo che si coordina ma non viene praticamente murato al momento del tiro che peccato quello era un golasso di Aubameyang Aubameyang può andare attenzione alla Roma Aubameyang taglia il campo poi viene però raggiunto allora scarica su Ronaldo che prova il volide e calcio d'angolo poi Carbonero attenzione che si muove in verticale Sansone infatti va a ricevere questo pallone è defilato Sansone la può mettere in mezzo così è Sampdoria in vantaggio al primo e dico al primo tiro in porta è 1-0 per il blu cerchiati dovrebbe anche muovere di più Chan però in questa zona di campo servito John dalla parte opposta la porta John con Bacca che attacca ancora centralmente occhio a Carlos vuole inventare passa su un uomo Magia di Bacca fino in fondo Bacca rientra Bacca Bacca il pareggio della Roma con la magia del colombiano che se ne è cercato questo gol e torna finalmente a segno dopo un periodo abbastanza buio ha fatto tre grandi cose Bacca i due dribbling e la conclusione imparabile per Allison il pareggio che arriva è fondamentale e mette ancora più in paura la Samp quindi Uchan pallone tagliato verso Nainggolan e Silvestri fa attenzione a Florenzi però la raccoglie Florenzi arriva ancora Uchan fa la verna Nainggolan Allison miracolo servito con Cantè che va dentro Florenzi cerca invece Ronaldo Moisander però allontana serve Soriano che però è praticamente il più avanzato dei suoi Cantè recupera un ottimo pallone intanto attenzione a Cantè con Bacca che va dentro l'assist per Bacca che prova il volo e poi c'è calcio di rigore era Ronaldo e non Bacca è calcio di rigore per la Roma sull'assist di Cantè il fallo di mano di De Silvestri che ha respinto la conclusione al volo di Ronaldo e quindi rigore per la Roma va Ronaldo 2 a 1 per la Roma remuntata con CR7 che fa gol dal dischetto e torna anche lui a segno spiazzato Allison Sampdoria 1 Roma 2 Erbo Nero la porta poi il lancio in verticale svola un Titi è veramente volato palla per Bacca riparte la Roma scopertissimo alla Samp va Schermi che vola sulla destra servito Vaglav attenzione in attività di Scerni con Luciano che va al centro e stanco Scerni poi riesce a mettere la deviazione sulla linea Luciano è liscio che occasione la vuole congelare Cantè che vuole tornare da John la partita è finita con la Roma che rimane imbattuta in campionato ma soprattutto vince ancora ennesima di fila battuta anche la Samp e vogliamo a quota 29 punti che sono tantissimi nelle prime 11 partite questa dunque la classifica signori con la Roma più 9 sulle seconde che sono Fiorentina e Juventus sta un po' maturando questa classifica in maniera anche più realistica da complimentarsi comunque con con i Carpi perché sì realistica ok ma questa allora conferma che il Carpi sta facendo un grandissimo campionato e quando lo affronteremo non sarà il solito Carpi e soprattutto il Carpi di due anni fa classifica classifica e raggi da Roma 29 Fiorentina Juventus 20 Napoli 19 Bologna e Carpi 18 Lazio 17 Atalanta Udinese 15 Sassuolo Inter Torino Milan e Santoria Dovrei averle dette tutte sì benissimo a 14 punti poi a 12 troviamo l'Ellas Verona a 11 il Palermo a 10 il Genoa e poi le 3 al momento in zona retrocessione che sono il Genoa appunto quindi era il Cagliari quella il Genoa benissimo non lo so il dislessico è diventato comunque il Genoa a 7 punti a pari merito con l'Empoli e poi il Pescara in fanalino di coda a 4 punti molto deludente direi fino adesso la stagione di Inter e Milan però ovviamente il campionato è ancora lungo quindi può succedere ancora di tutto la Roma comunque lo sta dominando per il momento il campionato non si può dire lo stesso della fase a gironi di Champions League che secondo me non è dovuta al fatto che non siamo abbastanza forti perché lo siamo però un po' la sfortuna un po' siamo testardi proprio dobbiamo mangiarci 10 euro alla partita col Pauca abbiamo sbagliato approccio e vabbè quella ormai è inutile che continuino a parlarne col Marsiglia siamo stati un po' un po' un po' sfortunati ma comunque signori il video giunge al termine io spero che vi sia piaciuto ovviamente il girone lo passeremo state tranquilli perché siamo forti e perché non possiamo non passarlo detto questo vi invito a lasciare un like appunto se vi è piaciuto lasciate un commento qui sotto se non lo siete già iscrivetevi al canale noi ci vediamo la settimana prossima forse martedì con il prossimo episodio di carriera e poi ovviamente con gli altri video bella rega iscriviti al canale di carriera